Per le famiglie italiane, comprare un'abitazione rimane un miraggio. Nel primo trimestre 2013, le compravendite immobiliari sono in flessione del 13,8% rispetto alla fine del 2012. Colpa anche del costo dei mutui, che si confermano i più cari d'Europa, con un tasso medio di interessi a maggio 2013 pari al 3,53%. È un rapporto di confartigianato a fotografare la crisi sempre più profonda del mercato immobiliare. Secondo il segretario generale di confartigianato Cesare Fumagalli, la situazione del settore di costruzioni impone interventi in più direzioni. Benvenga quindi il piano da 5 miliardi annunciato dal Governo per agevolare le erogazioni di mutui a famiglie e imprese. Ma senza dimenticare avverte l'efficacia di misure come le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni.